Con il titolo Colli Christmas, Calcinelli, definita capoluogo del comune di Colli al Metauro, si prepara alle festività di Natale con un nutrito cartellone di eventi in programma per domenica 15 dicembre. La manifestazione vede coinvolte più punti della frazione come Piazza Pio Franchi, Via Flaminia e Via Rossini. 60 invece gli espositori, suddivisi in oggettistica e prodotti tipici natalizi, poi stand gastronomici, canti del coro della scuola primaria Lugli con 180 bambini, musiche e spettacoli. E sarà l'ormai rodata Ultrasound Eventi a curare l'aspetto dello spettacolo di luci e suoni per l'accensione dell'albero di Natale prevista per le ore 18.30. Abbiamo quest'anno interessato anche una associazione che ci ha dato una mano, che è il Nautilus di Fano, che in genere segue questo tipo di eventi con molta capacità e molta attenzione. La cosa che è interessante e sarà interessante, secondo me darà una marcia in più a questo evento, è la presenza di Ultrasound. L'accensione dell'albero intorno alle ore 18 del pomeriggio dopo vari spettacoli che si porteranno avanti in piazza sarà caratterizzata da questo spettacolo emozionale e spettacolare che Ultrasound metterà in campo. Poi proseguiranno nel pomeriggio con tutta una serie di iniziative portate avanti anche speso da associazioni, poi ci sarà anche un evento musicale, carta a carbone alle 16.30 che si esibiranno in piazza e alle 18.30 questo spettacolo emozionale portato avanti dall'Ultrasound Eventi, quindi tutti quanti a Calcinelli domenica 15. L'evento però prenderà il via dalle 14.30 con la degustazione del panettone da Guinness offerto dai commercianti di Via Flaminia, a seguire poi stuzzicherie fino a tarda sera, DJ set e spazi dedicati ai più piccoli con le animazioni itineranti e Babbo Natà. Una giornata ricca di appuntamenti dunque, consultabili sul sito occhioallanotizia.it Sì, sicuramente sarà un bellissimo spettacolo di luci, suoni così come da anni ci regala Carlo Bellagamba. Poi ci sarà, come ha detto anche il sindaco, lo spettacolo musicale live dei carta a carbone che anche lì riusciranno senza dubbio ad accontentare tutte le fasce di età. Quindi vi aspettiamo domenica 15 dicembre dal mattino fino a tarda serata per questo bellissimo evento di Natale, Colli Christmas!